Buongiorno, siamo arrivati alla ventiduesima puntata del 2016 di Motor News e vi proporremo delle news del mondo dell'auto come di consueto e vedremo delle news di Aston Martin che presenta una nuova supersportiva proprio da pista, da competizione. Vedremo anche la nuova Renault Clio e la Citroen e la DS con le news del mese di giugno. Mentre per quanto riguarda le auto storiche si è svolto un nuovo raduno della Venture Peugeot che si è tenuto questa volta in Olanda e noi vedremo un servizio anche perché ci sono stati diversi italiani che hanno partecipato a questa manifestazione. In più Suzuki Challenge è la prova della Citroen C3 che abbiamo fatto insieme alla nostra collaboratrice Lilia Marcucci. Ma vediamo subito il primo dei servizi con una vettura supersportiva, la Aston Martin che ha fatto una vettura proprio da pista, da competizione, una vettura sport. Vediamo di cosa si tratta. Aston Martin e la Red Bull Racing hanno rivelato la loro ipercar innovativa del nome in codice AMRB001. Il prodotto è frutto di un'ambiziosa e straordinaria collaborazione in una partnership unica dell'innovazione tra il marchio di lusso britannico e l'emminente squadra di Formula 1 che combina la visione e le competenze dei due marchi leader a livello mondiale per creare una vettura stradale simile mai stata vista prima. I tre uomini colpevoli, tra virgolette, della realizzazione di questa visione condivisa sono Adrian Newey, direttore tecnico della Red Bull Racing e designer Formula 1 di maggior successo al mondo, Marek Reichman, Chief Creative Officer di Aston Martin e David King, Chief Special Operation Officer. Insieme sono la punta di diamante di un'alleanza formidabile che unisce più di cento anni di specializzazione sia con il patrimonio rendendo alcune delle vetture GT più belle e carismatiche del mondo e con la brillantezza tecnologica e incessante ricerca della velocità ed efficienza che ha visto la Red Bull Racing eccellere nel mondo ferocemente competitivo della Formula 1. Reichman e Newey stanno lavorando a stretto contatto su tutti gli aspetti del progetto cercando di garantire la AMRB001 una fusione senza precedenti di forma e funzione una macchina progettata per essere completamente utilizzabile e piacevole come una vettura stradale ma con la capacità di essere utilizzata come nessun'altra vettura stradale prima così come su una pista da corsa. Per coloro che desiderano un'esperienza di guida ancora più interessante e concentrata c'è una versione unica da pista della AMRB001 che è anche in fase di sviluppo con la performance proiettata di quello che oggi è in linea con la categoria LMP1 dei prototipi sportivi di Le Mans. Costruita intorno ad una struttura in fibra di carbonio leggera la AMRB001 vanta aerodinamica davvero radicale per i livelli senza precedenti di carico aerodinamico in una macchina stradale. Grazie al genio del disegno di Newey gran parte di questo effetto suolo è generato attraverso la deportanza aerodinamica lasciando Reichmann libero da realizzare una forma mozzafiato puro che esprime con eleganza sia il dinamismo all'avanguardia della AMRB001 e l'inconfondibile essenza di Aston Martin. Senza compromessi a tutti gli effetti la AMRB001 è una macchina su misura delle gomme sarà costruita da David King e la sua squadra a Gaidon nella struttura appositamente costruita creata per l'originale ipercar di Aston Martin la One 77. Ulteriori dettagli sulle specifiche tecniche dell'AMRB001 saranno rivelati a tempo debito ma il suo cuore è un nuovo motore aspirato V12 in grado di raggiungere un rapporto peso-potenza di un cavallo per ogni chilo di peso.